Ridi! No! No, no, stop! Uomini, donne, italiani tutti. Chi è il misterioso personaggio che si è impossessato di tutto il cherosene? La città brancola nel freddo. Sarà fiammetta, sarà marina, sarà ledicolante. Qualcuno sarà per forza! Correte, correte al cinema! Correte fino a farvi scoppiare la milza! Cherosene è il film! The Devil Boat Quella nave viaggiava carica di demoni e nessuno se n'era avveduto. Ma il grande padre venne per mettere fine a quella debosciata orgia satanica. E ad un certo punto il grande padre arriva e comincia a bussare al portellone della nave. Ma i marinai non rispondono perché all'interno sono già intenti ad urlare aiuto, aiuto! In questa nave c'è da mani, aiuto! Buttatevi fuori, aiuto! E allora il grande padre prende la decisione. Alza la veste e scaglia un pesante e possente calcio BAM! Contro il portellone. Intinge il pennello nella tinozza d'acqua santa e SPAM! Tira una fucilata d'acqua santa ai marinai. Ed esclama In questa nave c'era il demonio! E i marinai rispondono in coro Ed ora non c'è più! The Devil Boat La nave del demonio Il film che vi ridurrà in pappa Leone Il film che vi ridurrà in pappa